L'Onigo ne avevano fatto il loro rifugio occupando abusivamente lo stabile in via Battisti. La proprietaria però aveva notato uno strano movimento in quell'edificio che doveva essere vuoto e così ha avvisato i militari che vi hanno trovato all'interno due migranti di 34 e 27 anni di origine marocchina. Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio e invitati a presentarsi in questura per regolarizzare la loro presenza sul territorio. Valdagno, blitz di carabinieri, nasse e ispettorato del lavoro in centro. Nel mirino la movita da tempo oggetto di segnalazioni ed esposti per degrado e molestie. Controllati simultaneamente i bar del centro storico e le piazzette frequentati da giovani e tossicodipendenti. Tre i locali in cui si è concentrata l'attenzione. Per uno di questi è scattata la chiusura ad una maximulta di 15.600 euro per diverse violazioni amministrative. 25 invece le persone controllate tra cui un minore segnalato come assuntore. Camisano Vicentino, notata da un addetto al servizio antittaccheggio mentre si aggirava tagli scafai del supermercato Aliper di Vienne Green con fare sospetto, una 42enne veniva fermata all'uscita dalle casse. A seguito del controllo venivano recuperati i generi alimentari per un valore di 100 euro nascosti in borsa. La donna è stata denunciata per il reato di furto aggravato.